Tanti turisti a Sorrento per la manifestazione e i valori del territorio, inserita nel programma del premio nazionale Sirena d'Oro per i migliori oli DOP e IGP. Nei cortili dei palazzi del centro storico, degustazioni dei prodotti tipici, alla riscoperta delle tradizioni, delle risorse naturali e degli antichi mestieri della penisola sorrentina.